Alvia, nel nostro comune un nuovo servizio di telesoccorso, di teleassistenza per la popolazione anziana per rispondere a un bisogno fondamentale, quello di essere vicino alle persone più là con gli anni che sono una ricchezza per la nostra comunità. Assolutamente sì, l'amministrazione vuole stare vicino a tutti, in particolar modo alle persone anziane e abbiamo iniziato questo progetto sperimentale per le persone che hanno più di 75 anni oppure che vivono con un'altra persona, però una delle due deve avere più di 75 anni. Un modo per monitorare le necessità, per ricordare ad esempio quando prendere la medicina, se c'è qualcosa di particolare che una persona richiede oppure tante volte anche basta sconfiggere la solitudine che è un male dell'anima veramente toccante. Detto questo, ci stiamo impegnando in questa sperimentazione proprio per dare un segnale di vicinanza, vicinanza a tutte le generazioni, in particolar modo agli anziani e dare tranquillità anche ai familiari che tante volte non possono stare vicino al proprio caro. Un servizio che per essere costruito ha necessitato di un grande lavoro tecnico. Sì, gli uffici ci sono impegnati a dare una platea di persone che potenzialmente potevano essere destinatari di questo servizio. È un servizio che sta vicino alle persone, sta vicino alle famiglie, ma sta vicino agli anziani soli che spesso vivono la problematica del quotidiano e agli anziani che hanno anche delle patologie. Sarà un servizio innovativo soprattutto per la nostra città e la realtà a Ligure. Avrà il compito di monitorare, controllare, aiutare, coadiuvare, ma anche semplicemente dare delle risposte nel quotidiano agli anziani che appunto avranno bisogno. Passata la fase sperimentale, il servizio potrà essere esteso a una fascia più ampia di popolazione? Sì, ovviamente la fase sperimentale serve proprio a questo, a comprendere e capire quanto possa essere d'aiuto e quanto possa coadiuvare le attività principali che già svolgiamo in presenza. Siamo sicuri che sarà innovativo e che aiuterà moltissimo. Quindi passata questa fase, la volontà dell'amministrazione è quella poi di ampliare la più grande platea dei nostri concittadini che oggi attualmente sono molti in nostra città gli anziani e sono molti gli anziani che hanno bisogno. Quindi affiancare i servizi tradizionali con nuove tecnologie per migliorare la vita dei nostri anziani.